Venici termoceramiche per l'efficientamento energetico e quindi se mi permettete vorrei fare qualche, senza non voler annoiare chiaramente, ma insomma io ritengo che qualche nozione tecnica su cos'è l'irraggiamento solare sia importante darla, anche perché come vedremo anche dopo la normativa fino al 2015, all'ultimo decreto del giugno 2015 non ha mai preso in considerazione questo tema e ha cominciato a prenderlo in considerazione anche con tutto il tema della sostenibilità ambientale, è stato preso in considerazione diciamo dal 2015 in avanti, comunque siamo ancora molto indietro da questo punto di vista. Ci sono anche delle motivazioni ovviamente che l'irraggiamento solare in climatizzazione estiva è un tema evidentemente complesso che lavora in termini dinamici e non stazionari come invece si fa normalmente nel riscaldamento invernale. Comunque qui parto con, nelle considerazioni che oggi vi presento, è una cartina dell'Italia sviluppata dall'associazione sostanzialmente dei produttori fotovoltaici italiani, anzi europei, in cui praticamente si vede quant'è l'irraggiamento o la radiazione che coinvolge al suolo il nostro paese, vedete diviso nelle aree geografiche principali, quindi da 900 a 1.500 kWh, metro quadro. Sono dati, sono dati medi evidentemente che servono poi per calcolare l'efficienza dell'impianto evidentemente. Ma che cos'è una radiazione, un irraggiamento, una radiazione solare che evidentemente proviene dalla stella Sole? è una, qui vedete in alto a destra, è un'onda elettromagnetica sostanzialmente, onda che voi sapete è formata da una lunghezza d'onda ed una frequenza. E lunghezza d'onda per frequenza è uguale a c la velocità della luce. Questo per inquadrare un attimo il fatto che stiamo parlando di onde. e quella che vedete in basso, che poi riprenderò più avanti, è il cosiddetto spettro solare per un corpo nero. Cioè quello che è lo spettro solare relativamente al corpo nero che è il corpo di massima assorbimento e quindi conseguentemente di radiazione dell'energia prodotta. L'energia che viene dal Sole evidentemente si divide tra, lo vedete in alto a sinistra, energia diretta che arriva direttamente al suolo, al suolo terrestre. Una parte di questa viene diffusa dall'atmosfera, naturalmente una parte viene diffusa, assorbita e diffusa dall'atmosfera. Tutti sanno che l'ozono per esempio assorbe la componente di più alta frequenza, quindi dall'ultravioletto verso le parti basse delle lunghezze d'onde, quindi all'altissima frequenza e grazie a questo diciamo questi raggi pericolosi, perché sono raggi gamma, sono raggi X, tutti noi conosciamo che sono i raggi X, ma diciamo sono raggi estremamente penetranti e pericolosi. Magari abbronzano di più, però sono molto pericolosi. Quindi l'onda, vedete, elettromagnetica che arriva, la radiazione che arriva sulla Terra è formata da, cioè si riparte in varie componenti, c'è un'onda, ripeto, che arriva diretta, c'è una parte che viene riflessa dalla superficie terrestre o dall'elemento che ci interessa, poi c'è tutta una parte diffusa. Consideriamo mediamente, comunque, è fatto a centro la radiazione solare di partenza, circa 50 arrivi sulla superficie terrestre. Quello che vedete in alto a destra è l'effetto albedo. L'effetto albedo che cos'è? Dal nome stesso albedo, significa il tema della riflettanza che è molto importante nelle cosiddette, nei fattori che sono le isole di calore. Determinanti oggi dai vari protocolli, da Chioto a Parigi in avanti, che riguardano l'innalzamento della temperatura, soprattutto dove? Soprattutto in ambienti molto urbanizzati. Una neve, cioè un ambiente con neve, ha un albedo altissimo, riflette totalmente. L'albedo è la riflessione, sostanzialmente, dell'onda termine. Così anche se noi abbiamo città con grattacieli alti, nelle strade c'è una riflessione costante, attraverso per esempio i palazzi, che sono, se voi pensate, facciate continuo, eccetera, eccetera, c'è una continua riflessione dell'onda termica fino ad accumulare una rilevante, diciamo, temperatura, una rilevante quantità energetica che poi si riflette evidentemente sull'innalzamento della temperatura. Quindi l'effetto albedo è un effetto, peraltro, molto studiato, nel senso che evidentemente determinano le condizioni climatiche mondiali, naturalmente suddivise nelle varie situazioni, dal polo al deserto. Il deserto, per esempio, non ha un'elevatissima riflettanza, ma dipende anche dal colore, il mare ne ha anche questa abbastanza poca, come albedo, mentre le altre zone sono decisamente più elevate. Quindi l'albedo è uno strumento che ci permette di capire dove intervenire e questa è la base poi dei cool roof che noi andremo a parlare, cioè di quelli che sono i sistemi di tetto freddo, cosiddetti, o comunque, diciamo, sistemi che permettono di incrementare questo albedo in modo a ridurre l'assorbimento dell'energia nei vari materiali. Brevissimi elementi di trasmissione del calore. Il calore come si propaga? Si propaga attraverso tre vie, no? Penso che tutti voi lo sappiate, lo avete studiato. Uno è il sistema della conduzione termica attraverso corpi solidi. L'equazione di Fourier è questa che tutti noi utilizziamo, dove la trasmissione di calore tra una parete A e una parete B, pensando a un'edilizia, quindi a un esterno interno, è dato da un coefficiente U che naturalmente è la trasmittanza globale per il salto termico delle due temperature. Questo naturalmente in regime stazionario è quella che poi si applica normalmente per fare i famosi termotecnici, conosco bene, conoscono bene attraverso software tipo il PAMMA, per esempio, di calcolo regolarmente. Naturalmente qui stiamo parlando di situazioni invernali. Quindi in regime stazionario. Quindi questa è la legge che conosciamo e che interessa, cioè il trasferimento di calori tra corpi solidi. Poi naturalmente c'è la conduzione. La conduzione è invece una legge un po' più complessa, infatti l'H è un coefficiente che poi si collega alla cosiddetta costante di Reynolds o numero di Reynolds che ti fa praticamente capire che questo è un trasferimento che avviene per spostamento di fluido. Quindi tutti noi facciamo la pasta, quando l'acqua aumenta la temperatura comincia, le particelle crescono, si dilattano e la parte più calda sale verso l'alto e la più fredda scende. Questo è un tipico fenomeno convettivo. Noi nell'edilizia ce l'abbiamo tra parete e zona limitrofa naturalmente della parete. Cioè quella fettuccina d'aria che poi i termotecnici chiamano alfa I, alfa E che poi sono anche determinati, cioè coefficienti di convezione per il trasferimento del calore. Naturalmente se io ci metto un ventilatore l'alto aumenta, quindi ho una conduzione più veloce e così via. Questo serve per esempio per raffrescare. Quando parliamo di parete ventilata agiamo esattamente su questo principio, cioè sulla convezione. E vediamo invece il tema di oggi, cioè quello che ci interessa, che è il dirraggiamento solare, i cui parametri sono fondamentalmente legati, che sono legati tra loro, assorbimento dell'onda, riflessione e trasmissione. Su un corpo opaco, quale può essere una copertura, una parete opaca di mattoni o una copertura fatta in coppi o in calcestruzione di dicendo, evidentemente la parte trasmessa è molto bassa. Quindi parliamo di assorbimento e parliamo sostanzialmente di riflessione. Vedete che questi, ovviamente siccome l'energia non si crea e ne si distrugge, ma tutto si trasforma, al primo principio della termodinamica vedete che A più R più T uguale a 1. Quindi questo è il fattore base su cui noi poi basiamo tutti i ragionamenti. Qui ritorno sul concetto delle onde elettromagnetiche per capire che l'onda, poi quando tutti noi abbiamo i prismi, gli arcobaleni, quando vediamo la diffrazione dell'onda nel campo del visibile che noi possiamo vedere, in realtà il campo di un'onda elettromagnetica, vedete, in termini di lunghezza d'onda, insomma lavora tra valori molto ampi di lunghezza d'onda, dai diciamo 1 o 2 nanometri fino a qualche migliaio ovviamente di nanometri. E la parte del visibile è una fettucina che la vedete indicata tra 0,38 e 0,78 micrometri in questo caso, quindi 3,80 e 7,80 nanometri, che va dal violetto, cioè dall'ultravioletto all'infrarosso visibile, cioè visibile intendo dire dall'occhio umano. Poi abbiamo onde naturalmente come dicevo, a frequenza elevata, tipo raggi X e raggi gamma, ripeto, onde pericolose, che sono in gran parte bloccate dall'ozono, per parlare diciamo del nostro pianeta, e poi abbiamo tutta un'area molto ampia di infrarossi, si parla di NIR, MIR e infrarosso lontano, cioè infrarosso vicino, infrarosso medio, infrarosso lontano, che poi è quello che genera la maggior parte, superiore al 50% del carico termico che arriva attraverso la radiazione solare. Questi concetti sono la base, perché vedete la differenza rispetto ad altri sistemi di conduzione e di convezione, qui abbiamo la lunghezza d'onda, che è una variabile evidentemente tipica dell'irragiamento. Il raggiamento non ha niente a che vedere, e anzi lavora in parallelo, se ragioniamo in termini diciamo elettrici, rispetto alla conduzione e alla conduzione. Vi faccio solo vedere le principali leggi, che poi sono anche di inizio del Novecento, insomma, che hanno permesso di capire come funziona l'irragiamento, partendo dal concetto del corpo nero. Cos'è il corpo nero? Il sole è un corpo nero, vi farà ridere, ma è così. Il sole è però un produttore energetico, quindi è un corpo che assorbe integralmente l'intera energia e quindi la emette al cento per cento. Quindi sostanzialmente parliamo come riferimento al corpo nero perché ci aiuta a fare i calcoli. Comunque vedete l'energia emessa in funzione della temperatura al quadrato, alla quarta potenza. Quindi questo è un primo dato molto importante. La legge di Stefan Bosman ti va a dire sostanzialmente che la quantità di energia, perché noi dobbiamo calcolarla, è data da una costante per un'area, evidentemente che è l'area che emette, per la temperatura alla quarta potenza. Successivamente, sempre parlando di emissione del corpo nero, si è detto, ma siccome la radiazione solare è formata da diverse lunghezze d'onda, qual è il rapporto temperatura assoluta, qui parliamo di temperatura assoluta che intendo grado Kelvin, varia come grado Celsius, però lo zero è a meno 273 gradi, lo zero Kelvin è a meno 273, quindi quello che si dice a zero assoluto, i gradi Celsius. Quindi il rapporto della lunghezza d'onda con la temperatura è una costante e questo è la famosa legge di Wayne, è la legge che ci ha permesso anche per esempio di calcolare sostanzialmente la temperatura del Sole, perché se io guardo mediamente il Sole si presenta giallo, quindi quello probabilmente in estate allo zenith diciamo solare, la temperatura del Sole moltiplicata, come vedete, la temperatura del Sole, se io quindi stabilisco che il giallo ha una lunghezza d'onda di 0,5 micrometri, attraverso la costante di Wayne riesco a calcolare qual è la temperatura del Sole, che come vedete sono 6.000 gradi Kelvin, in sostanza sono circa 5.700 erotti gradi Celsius. E questo fa anche capire lo spostamento del rosso di certe stelle, del blu in altre, vi dicendo. Arriviamo alla fine a legge di Planck che ha messo insieme i due, attraverso che cosa? Attraverso la identificazione, qui lo vedete, lo spettro a sinistra sempre di un corpo nero, spettro somnale di un corpo nero, che ha messo in relazione sostanzialmente la temperatura massima con la lunghezza d'onda. E vedete che gli spettri, ogni lunghezza d'onda, ha sostanzialmente la sua massimo picco di temperatura. Questo è per effetto di queste due leggi con Planck che le ha messe assieme sostanzialmente. Nella parte di destra vedete che lo spettro, noi però non abbiamo in effetti solo a che fare, anzi mai a che fare con corpi neri, cioè corpi perfetti, cioè ripeto il corpo nero perfetto è quello che assorbe Epsilon uguale a 1, cioè praticamente assorbe sostanzialmente tutta l'energia, un buco nero sostanzialmente. Ma noi abbiamo per effetto dell'atmosfera e tutti gli effetti di cui abbiamo visto prima, la diffusione, la riflettanza eccetera, abbiamo per ogni temperatura, in questo caso parliamo della temperatura di 2000 Kelvin, vedete che lo spettro si abbassa molto e forma tutta una serie di creste, crestine e vi dicendo, perché quella è poi alla fine l'energia per lunghezza d'onda che ci colpisce realmente, non è quindi quella più alta se volete del corpo nero, ma è quella fortemente ridotta. Vedete che la riduzione potete considerarla solo del 50%, anche se per lunghezza d'onda cambia, diciamo, ma ogni lunghezza d'onda ha il suo valore massimo evidentemente energetico che è meno. Un altro aspetto che naturalmente va considerato in campo dell'irraggiamento è l'inclinazione, per chi fa pannelli solari questo è ben noto, insomma, un pannello solare se pensiamo alle nostre latitudini io non lo metto per essere efficiente, non lo vado a mettere evidentemente su una copertura piana orizzontale, ma lo inclino di almeno 30-35 gradi in modo tale da poter avere i raggi solari che al suo zenith sostanzialmente siano più possibili perpendicolari. Naturalmente tutto questo va in regime dinamico, qui vi ho fatto vedere, per esempio, che l'altezza del sole dove noi siamo, per esempio, a 45 gradi, non siamo a 43, ma insomma a 45 gradi, vedete che l'altezza del sole nel sostizio d'estate è 90-45, qua 45, più 23 fa 70 gradi. Quindi è una bella altezza molto interessante per un pannello solare, a cui io aggiungo poi l'inclinazione che vado a dare. Se però mi trovo d'inverno vedete che l'altezza del sole, naturalmente considerata nel sostizio d'inverno, quindi quando il sole è al minimo di altezza per la nostra latitudine, diciamo, dell'emisfero nord della Terra, l'emisfero boreale come viene chiamato, l'altro si chiama australe, ci troviamo che l'altezza è 90-45-23, quindi stiamo parlando di un'altezza di 23 gradi, 22-23 gradi. E naturalmente, come vedete, le tabelle giornaliere fatte qui in Italia, vedete su una certa località del nord Italia, vedete che a giugno abbiamo una certa inclinazione, 22 gradi, e poi questa cambia continuamente. Infatti il tropico, a giugno siamo al tropico a sostizio d'estate, vedete che siamo a 23-22, che è proprio l'equivalente del tropico del cancro, sostanzialmente, quando il sole si trova all'altezza del tropico del campo. Quindi, conseguentemente, l'altro aspetto che va considerato nel campo dell'alleggiamento è certamente l'inclinazione con cui, e questo anche le norme ne tengono conto, sia pure in forma ovviamente semplificata, quando parliamo di superfici piane, di coperture piane, per esempio, coperture con diversa inclinazione. Sul concetto dell'albedo, l'ho già presentato, cioè sostanzialmente è la capacità di riflettere di una superficie, ed è chiaro quindi che per evitare il fenomeno delle urban heat island, come vengono chiamate, UHI, che sono le isole di calore, l'effetto, cioè avere delle superfici di buona riflettanza verso il cielo, diciamo così, diventa un elemento particolarmente importante per poter ridurre l'effetto proprio dell'isole di calore e quindi insopportabile caldo che noi abbiamo nei centri storici, in particolare in Italia o comunque nei centri urbanizzati. Questo rientra poi in tutto quello che è il concetto della CO2, della sostenibilità e così via. Direi anzi su questo credo che gli studi oggi stanno andando esattamente in questa direzione. Certamente l'ipotesi di poter per esempio pensare di creare una stazione orbitale fuori dall'atmosfera terrestre per captare l'energia è sicuramente con dei pannelli e vi dicendo la soluzione sarebbe molto interessante, l'unica cosa è che poi bisogna trasferirla sulla Terra, quindi questa è un'altra tematica, ma so che ci sono precisi studi e testi in questa direzione. Allora, detto questo che è una parte, scusate, è una parte generale, ma insomma per capire anche di cosa stiamo parlando, veniamo ai cool roof. I cool roof che cosa sono? Dal nome tetto freddo, sono dei materiali evidentemente che posti su una superficie, parlando in particolare delle coperture, delle costruzioni, ma possiamo anche parlare in facciata evidentemente, hanno la capacità di riflettere la radiazione solare e hanno però anche un'altra capacità di avere un'elevata emissività, cioè l'emissività, abbiamo detto prima, è funzione naturalmente della temperatura e un corpo che si riscalda emette, emettendo si raffredda evidentemente, fino ad arrivare a un certo equilibrio. Quindi questi materiali che cosa fanno? Da un lato riflettono la radiazione solare che arriva, dall'altra parte quella parte, quella componente che può essere per esempio per il nostro San Zenit, attorno al 10-12% di radiazione che viene assorbita dai dati ovviamente sperimentali a cui è stato sottoposto il materiale, poi vedremo anche numericamente, è evidente che questa parte del 10-12-13% viene riemessa dal materiale verso l'esterno o verso l'interno, però al 90%, quindi è un'elevata emissività, il che vuol dire che alla fine la quantità di calore che passa su una copertura trattata con il cool roof, oscilla tra l'1 e il 3% della radiazione totale e voi capite bene cosa significa questo in termini di riscaldamento, parlando naturalmente in estate, quindi nei periodi più caldi, cosa significa in termini di accumulo di riscaldamento all'interno della struttura? Di che cosa comporta? Necessità di impianti di condizionamento per poter abbassare le temperature determinate da questo, se poi all'interno, e lo vedremo anche questo, c'è un accumulo energetico, pensiamo alla fabbrica per esempio nel settore dei tessili per esempio che ha un carico termico interno notevolissimo, tutto questo va a peggiorare le condizioni limite e quindi dobbiamo immettere degli impianti di condizionamento e anche naturalmente di impianti che vanno a ridurre anche l'umidità, a questo punto particolarmente elevata, presente all'interno in modo tale da tornare a delle condizioni emissibili, diciamo, di legge. Naturalmente questo è il primo aspetto fondamentale di un roof, abbiamo però altri aspetti collegati, qual è? Se una temperatura di una copertura, se una copertura nera arriva a 80 gradi d'estate, per esempio una copertura con una guaina nera, oppure un tetto scuro, diciamo, con artesiate o con altri sistemi di copertura, bene, col bianco invece la situazione cambia radicalmente, nel senso che la temperatura si abbassa di 30 e anche 40 gradi, quindi invece di avere 80 ne ho 40, 45 e questo noi lo facciamo regolarmente anche attraverso degli esperimenti molto semplici con delle lampade con una certa potenza che incidono su una superficie trattata enorme. Quindi cosa significa? Significa che quelle coperture dove spesso ci sono impianti, e non solo fotovoltaici evidentemente, sono soggette a degli stress termici rilevanti con tutto quello che significa sulla vita utile delle apparecchiature e degli stessi materiali. Non è che una guaina sta bene passare da 0 gradi d'inverno a 80 gradi d'estate, con escursioni giornaliere anche a volte molto forti. Questo comporta un danno enorme sui materiali e sulle strutture o sugli impianti che ci sono. Vedremo come anche c'è un effetto sull'efficienza dei pannelli fotovoltaici, la presenza di un cool roof bianco chiaramente, tutto il resto poi questo comporta che di conseguenza minore impianti, di minore necessità di energia elettrica per l'affrescamento, ovviamente significa riduzione di emissioni di CO2, e voi sapete che tutto questo poi comporta un rispetto o la necessità, un rispetto e la necessità di seguire i parametri di chioto, di parigi e così via. Ecco, vedete quello che avviene su un tetto per esempio, come si diceva la radiazione solare incide, una parte viene riflessa secondo il coefficiente, tanto per dire una muratura normalmente ha un coefficiente di assorbimento di 0,6, quando invece un cool roof ha un 0,1, quindi voi capite la differenza rilevante che c'è anche sulla facciata, non solo, anche se la facciata ovviamente avendo un'inclinazione diversa, perché ha 90 gradi rispetto a un'inclinazione solare, è ovvio che l'efficienza è minore, però anche in facciata il sistema funziona molto bene. Quindi una parte, abbiamo detto, viene riflessa, una parte per effetto del riscaldamento, in funzione dell'emissività viene emessa esternamente, una parte può essere portata via da effetti convettivi, se c'è molto vento per esempio, o se c'è un tetto ventilato e cose di questo genere. E quindi tutto questo per che cosa? Per ridurre al minimo la quantità di calore che entra in estate. Ecco qui, vedete appunto i casi, tre tipologie di casi, dove abbiamo un tetto nero, sostanzialmente tipico di una guaina, un tetto con dell'alluminio, quindi potrebbe essere, c'è un metallo, alluminio quindi potrebbe essere una mera grecata o qualcosa del genere, e un tetto con roof. Vedete le differenze? Abbiamo 80 gradi di temperatura, 60 e 40, sono valori medi evidentemente, e l'emissività che abbiamo pari al 90%, naturalmente, con un tetto che emana, un tetto caldo che emana una quantità energetica attraverso l'emissività che è piuttosto elevata. Invece ha una riflettanza molto bassa, stiamo parlando di un 5%. Nel metallo, per esempio, abbiamo un effetto diverso perché abbiamo una bassa emissività, metallo in genere è un buon conduttore e quindi ha una bassa emissività e una riflettanza abbastanza importante che arriva, vedete, all'85%. Un cool roof che si può porre tra l'85 e l'90%, quindi di riflettanza, come si diceva, anche questo però sono materiali che hanno un'emissività molto elevata e quindi un raffreddamento certamente più di una luce. Questi materiali, cool roof, sono stati protocollati dalla CRRC che è l'agenzia, cioè il secondo protocollo CRRC da parte dell'European Roof Cool Council, le CRC, che è un'agenzia europea su tematiche di cool roof. Vedete che le caratteristiche a cui devono rispondere per essere, secondo questi protocolli europei, i materiali devono avere un'elevata riflettanza solare nel visibile, ma anche nel primo e nel medio infrarosso, un'elevata emissività, che stiamo attorno al 90%, e poi ci sono delle caratteristiche tipiche di questi materiali, elasticità, flessibilità, resistenza alla temperatura UV comunque presenti su una copertura, l'adesione al supporto, possono essere di varia natura, basso assorbimento d'acqua, resistere a un'acqua stagnante, vedete, resistenza chimica agli agenti aggressivi in generale atmosferici, invecchiamento e durabilità testati e anche calpestabili, quantomeno ai fini manutenti. E qui entriamo in campo sul sistema quindi strettamente roof coat, cioè GP San Zenit roof coat, oppure exterior interior, secondo le classificazioni che abbiamo dato a questa vernice sostanzialmente, ricordando che l'80% degli edifici sono costruiti ante 1981, quindi praticamente una modesta legge allora italiana sull'efficienza energetica, la 373 se non ricordo male. E quindi parliamo di 5 milioni di edifici che sono attualmente in carenza di una classe, se parliamo poi di classi, le vediamo qua, questo è un protocollo casa-clima, ma potremmo indicare anche altri protocolli italiani o destali, tipo il LID, dopo ne faccio un accenno, vedete le classi di consumo energetico, diciamo che il 99% di questi edifici è in classe F. Stiamo parlando cioè di un consumo in chi paga le bollette lo sa, di maggiore o uguale a 160 kWh al metro quadro anno, diviso nel metro quadro per le stabili dell'appartamento. Fate un po' i conti, cosa significa in termini a 0,35 euro a kWh, vedete quanti, potete anche voi farvi i conti di quanto uno paga in bolletta. Ecco, il miglioramento, l'efficienza che va naturalmente sia sulle pareti opache, sia sulle finestre, quindi tutto il tema dei doppi vetri, dei vetro camera e così via, del sistema delle facciate ventilate, eccetera, eccetera, e delle coperture che sono molto importanti, guardate la copertura rappresenta tra il 25 e il 30% delle dispersioni termiche in un edificio, quindi vedete che per portare la classe B, A, B, insomma che dovrebbe essere su questo ordine di grandezza, bisogna intervenire in questo senso. Beh, in questo senso poi ricordo che l'eco bonus ha proprio questa valenza, nasce per migliorare l'efficienza energetica degli edifici privati, in questo caso, ed è chiaro che l'eco bonus può essere uno strumento molto importante che verrà anche, come ricordavo in un webinar precedente, verrà anche migliorato dal decreto che probabilmente porta l'eco bonus a oltre il 100% in termini di costi di recupero fiscale e dei costi di intervento e di efficientamento, che non interessa solamente l'involucro, ma va anche sull'impianti, chiaramente, infissi, impianti, eccetera. Che cos'è San Zenit? San Zenit, quindi, questo materiale, cool roof, chiaro ci non possono essere di altri, non ditemi però che basta che sia bianco, perché il bianco ha una riflettanza sull'ordine del 50%, questo materiale ha una riflettanza tra l'85% e il 90%. Perché questo? Perché all'interno di questo binder, che naturalmente è un tipo di resina, ci sono queste microsfere cave di ceramica, non sono delle sfere piene, sono delle sfere cave, e questo è un elemento molto importante, perché queste, voi le vedete nelle foto al spettroscopio elettronico che sono state fatte, vedete che proprio come sono fatte, cioè queste palline sono state anche tagliate, le vedete, e si vede che sono come dei gusci d'uovo. queste microsfere cave hanno la funzione naturalmente anche, sono da 20, come vedete, da 120 micron, quindi stiamo parlando di molto fine, hanno la funzione anche di, evidentemente, innanzitutto, di dare una resistenza particolare, perché la ceramica è particolarmente resistente, ed è molto importante questo per un trattamento di una parete, di una copertura, e così via. ma soprattutto attraverso dei microriflettori che sono posti all'interno riescono a fortemente potenziare l'effetto di riflettanza che altrimenti se fosse una normale vermice, ripeto, bianca, arriverà da un 50-55%, fino a portarla a un'efficienza massima ad oggi che arriva a circa un 90%. In, naturalmente, come vedete, in 0,3 mediamente, 0,3 millimetri di spessore. Quindi stiamo parlando di 300 micron di spessore. Le caratteristiche di una vernice di questo genere applicata su una superficie di qualsiasi natura, perché può essere in acciaio, può essere in materiali porosi, quali normali intonaci, può essere naturalmente una superficie in guaine bituminose, in poliuretano spruzzato e così via. Anche perché su tutte queste superfici il materiale, come vedremo, ha delle caratteristiche di capacità di adesione molto elevante. la maggior parte di questi materiali sono di buona traspirabilità al vapore d'acqua, questo lo dico in particolare per quanto riguarda le facciate, sia interne che esterne. La riflettanza, come vedete, è pari a 85, anche qualcosa di più, e ha un 90% di emissività. la durabilità di questo materiale è molto elevata, è stata testata a 5.000 ore, a invecchiamento accelerato, il colore bianco base, ci possono essere i colori pastello poi disponibili, è un prodotto a base acqua, quindi è bassissimo anche il VOC, quindi anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Vedete che i risparmi energetici in regime estivo si dice arrivano al 30%, vedremo che arrivano anche a valori superiori al 30%, in particolare in ambienti particolarmente cari. Quindi questo rivestimento una volta posto sulla parete, per esempio lo vedete qua, rispetto a una normale per esempio pittura, una normale pittura silossanica o quant'altro, vedete che avendo anche una capacità elastica, avendo anche una capacità naturalmente di seguire anche fessurazioni e ci fossero anche le fessurazioni determinate, invecchiamento e quant'altro, quindi al di là dei fattori di riflettanza ha tutta una serie di caratteristiche anche di una pittura elastica molto efficiente per come dire impedire l'umidità di entrare nella 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 parete e conseguentemente naturalmente peggiorare le condizioni di isolamento del mio pacchetto di parete. la mia diciamo una tamponatura mattone porton o altri materiali naturalmente di cui fosse composta. Naturalmente vedete che le palline termoceramiche le sfere termoceramiche naturalmente riescono a creare anche una barriera particolarmente resistente e questo è importante ai fini proprio della durabilità. L'indice che vedete sotto sull'indice basi per questi materiali riflettanza maggiore del 85% emissività maggiore del 90% l'indice SRI 104 l'indice SRI Solar Reflectance Index è un indice che è stato introdotto anche dalla normativa e da alcuni protocolli tra cui il LEED e che va a misurare i due fattori combinati attraverso delle prove sperimentali. Il nostro materiale ha un SRI di 104 vedremo che poi questo è importante proprio nel calcolo dei premi dei crediti LEED qui vedete proprio lo spettro del nostro materiale questo è stato fatto con analisi presso l'istituto di Murano del Vetro c'è una stazione specifica per queste cose vedete che la curva che vedete sotto c'è la lunghezza d'onda in nanometri il visibile considerate va da circa 500 circa 400 nanometri quindi il lato sinistro della scissa fino a 800 e dopodiché abbiamo sul lato sinistro abbiamo l'ultravioletto e sul lato destro abbiamo l'infrarosso nelle varie ripeto che noi non vediamo evidentemente a occhio umano ma che è fondamentale perché diciamo la quantità energetica dell'infrarosso è molto importante quindi stiamo ragionando di una lunghezza d'onda che va da circa 800 nanometri fino ai 2005 più o meno vedete che naturalmente il concetto di riflettanza è questo è altissima nella parte del visibile che è quella che ci interessa in modo particolare è buona nel primo infrarosso comincia a cadere oltre i 2200 nanometri quindi nel lontano infrarosso il materiale non è più capace di riflettere l'onda di infrarosso bisognerebbe avere in questo caso dei materiali basso emissivi tipo per esempio l'argento uno specchio è un materiale basso emissivo ma i costi sarebbero molto vedete traspirazione qui ci sono tutta una serie i prodotti sono tutti certificati sia all'estero li abbiamo certificati in Germania ma in particolar modo poi in Italia da alcuni istituti tra cui l'istituto Giordano vedete l'Sd un metro quindi un ottimo al di sotto di due metri un ottimo traspirante abbiamo un ottimo impermeabilità all'acqua in classe V3 tutti questi poi sono dati che sono riportati in scheda un allungamento fino al 100% un'adesione che naturalmente dipende dai supporti in questo caso stiamo parlando di un'adesione al cemento a 1,5 newton al millimetro quadrato resistenza meccanica resistenza a trazione di 2,5 newton al millimetro quadro quindi direi anche molto elevata per una vernice ecco questa prendetela un attimo anche con attenzione perché è chiaro che sono materiali se io ragiono dal lato interno l'effetto è meno non è calcolabile neanche però certamente il comfort aumenta diciamo che il materiale quindi migliora l'effetto sul ponte termico migliora l'effetto per esempio su ambienti che sono generatori di vapori tipo cucina tipo bagni quindi diciamo antimuffa eccetera eccetera ha tutta una serie di vantaggi l'interior che è legato a questo chiaramente non possiamo considerarlo come un vero e proprio la parte interna evidentemente è un vero e proprio diciamo solutore del ponte termico perché quello andrebbe via secondo la conduttività quindi bisognerebbe intervenire probabilmente dall'esterno attraverso dei sistemi a capotto similari però certamente se io non posso fare tutto questo applicandolo all'internamente alla mia stanza noi abbiamo fatto test proprio anzi poi vi facciamo vedere anche in termocamera come l'effetto migliora decisamente il principio della parete fredda quindi la parete diventa una parete calda anche perché è un materiale che naturalmente impedisce o meglio assorbe l'umidità ambientale e poi la rilascia quando l'umidità è più secca quindi funziona un po' come la pelle umana sostanzialmente quindi internamente è un buon termoregolatore anche idrometrico oltre che termo durabilità abbiamo detto che i test di invecchiamento portano questo materiale almeno fino a 25-30 anni di durabilità il materiale ha una garanzia di 10 di suo però la durabilità è questa e poi un base acqua quindi con tutto quello che significa in termini ecocompatibili ricordo un attimo velocemente sulla normativa come dicevo prima questa è una normativa che l'Emilia Romana anticipando il decreto del 2015 ha emesso ricordo che all'epoca non c'era nulla sulla climatizzazione estiva vedete in basso c'è scritto riflettanza solare uguale a superiore a 0,65 avevano cioè già introdotto degli elementi che sistemi curruf per il palo della regione Emilia Romagna ante decreto 2015 in cui sostanzialmente dicevano che sarebbe opportuno impiegare i sistemi del genere per quanto riguarda le coperture Emilia Romagna ha spesso anticipato nel mondo delle costruzioni insomma anche leggi nazionali ma questo l'aveva fatto anche la regione Lombardia questo è il decreto del 2015 vado via veloce vedete che decreto che cosa dice in sostanza che io sulle coperture piane posso usare dei materiali in climatizzazione estiva anzi posso spiego meglio dopo comunque con valori di riflettanza di 0,65 per coperture piane oppure possono essere inferiori 0,30 per esempio per effetto dell'inclinazione come vi dicevo per copertura fa però ha introdotto un altro elemento particolarmente importante e che è il fatto che il termotecnico per rilasciare un'app deve dichiarare perché non usa un sistema di questo genere quindi hanno fatto un po' come si fa l'onore di inversione della prova cioè si intende che tu mi devi dire perché non impieghi una tecnica di questo genere che naturalmente potrebbe anche essere una copertura verde o altre tecniche per abbassare la temperatura della copertura quindi anche se questa situazione non la precisa cioè dice che bisognerà poi che il termotecnico sviluppi una diciamo una relazione che spieghi quali sono i benefici di aver impiegato un certo tipo di soluzione per quanto riguarda questo farò vedere poi infatti come noi presentiamo questo argomento al termotecnico o comunque sia a chi è interessato evidentemente per dire qual è il rapporto costi benefici di un impiego in copertura ma non solo di un curuf qui invece come vi dicevo prima il LID che è un protocollo nato negli Stati Uniti e in Canada che prende in considerazione parametri molto più complessi ambientali ecosostenibili rispetto per esempio al protocollo casa clima e sta entrando ormai è un protocollo che anche in Italia insomma è impiegato da oltre 100 paesi nel mondo ha previsto sette categorie ambientali per diciamo dare una serie di parametri di crediti sostanzialmente basato su sette categorie ambientali una di queste in particolare la sostenibilità del sito come vedete effetto isola di calore in particolare si parla proprio dell'impiego dei sistemi di curuf dove si pone anche un valore di SRI come lo fa anche il decreto del 2017 che poi vediamo comunque in cui la riflessione solare SRI deve essere superiore a 29 oppure a 78 79 scusate qualora avessi coperture piane o coperture diciamo cioè coperture 29 come valore minimo naturalmente e coperture invece inclinate con valori superiori a valori minimi 29 per le coperture inclinate e 79 per le coperture piani però con la necessità di verificare che 75 per cento delle superfici del tetto rientrino dentro questi parametri e allora è chiaro che se io utilizzo un materiale con 104 di SRI certamente io ho dei vantaggi come risposta diciamo per quanto riguarda i crediti lead in questo caso si dà un credito lead con questo criterio di accettazione lo stesso ha fatto poi il decreto del 11-17 con i criteri ambientali minimi in cui anche questo che è riduzione dell'impatto sul microclima inquinamento autospernico vedete che per le superfici esterne tipo percorsi pedonali marciapielli eccetera abbiamo un indice SRI che deve essere maggiore o uguale di 29 molti materiali ce l'hanno peraltro mentre per le coperture vedete abbiamo il 29 nei casi di dipendenza maggiore del 15% e di almeno 76 secondo il decreto italiano per le coperture e competenza minore o uguale insomma per i tetti piani in sostanza quindi 76 è il nostro parametro noi lavoriamo con 104 il che vuol dire che ci sono delle zone della copertura perché poi il valore arriva sempre al 75% complessivo quindi il valore delle zone della copertura che sono impegnate da attrezzature macchine impianti e così via è chiaro che se io aumento le altre zone riesco a stare con un coefficiente di SRI migliore riesco a compensare il minor coefficiente che ho nelle aree occupate da impianti o da copertura quindi faccio vedere una adesso ancora un po' ma comunque quello che mi interessa è far vedere questo noi nel 2013 per due anni abbiamo condotto con l'università di Padova con il dipartimento dell'ingegno industriale un programma di ricerca per verificare sostanzialmente i costi benefici del sistema nostro in questo caso che cosa abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo voluto vedere quali sono effettivamente i risparmi in termini di kilowattora metro quadro sostanzialmente in percentuale applicando su diverse tipologie di fabbricati per aree naturalmente aree climatiche diverse abbiamo scelto la E la D e la B insieme all'università e su diverse tipologie ante o pre decreto 311 che ricordo è il decreto del 2006 quello che ha introdotto le famose classi eccetera eccetera quindi le aree zone climatiche e così via e i parametri della U cioè della condicibilità complessiva massima quindi in funzione naturalmente di tutti questi parametri siamo andati con un programma di origine americano in dotazione in questo caso presso l'università di Padova che si chiama Transis 17 che è un programma di simulazione dinamica funziona un po' come gli elementi finiti solo che invece di essere discretizzati nello spazio sono discretizzati nel tempo e abbiamo analizzato un po' le varie situazioni ecco qui vi dico gli edifici presi in considerazione villetta singola condominio palazzina adibita uffici e centro direzionale praticamente e capannone industriale ante e pre decreto del 311 2006 le superfici sono state le presenze sono state naturalmente ipotizzate secondo le norme uni di riferimento le zone climatiche vedete abbiamo messo Venezia in zona climatica E ma è tutto il nord Italia insomma la gran parte in zona climatica E centro Italia di Palermo comunque sia l'area del sud in zona B adesso non entro nel tecnico ma sostanzialmente questo programma analizzato sulla base delle stazioni di rilevamento meteorologico che ovviamente avevamo completamente quindi sono stati analizzati vent'anni e di ogni anno di questi vent'anni è stato preso il mese di riferimento medio che fosse sulla base naturalmente di temperatura nitra dell'area velocità del vento radiazione diretta diffusa che sono disponibili tutto l'anno nelle località di cui vi ho fatto vedere i luoghi insomma chiaro in questo caso dobbiamo scegliere la località perché Venezia Vicenza Milano possono essere leggermente diverse però insomma riassumono sostanzialmente la condizione media della zona climatica quindi dei vent'anni degli ultimi vent'anni è stato fatto un anno tipo anzi per la verità due anni tipo uno per il transitorio uno per lo stazionario ma insomma in sostanza avete capito è stato costruito un anno tipo con il mese medio che meglio rappresentava in questi vent'anni il sistema ecco qui vedete adesso non mi soffermo con i dettagli vediamolo vediamolo uno ecco per esempio il condominio è un condominio residenziale su quattro piani quindi 1200 metri quadri quattro appartamenti per piano da 100 metri quadrati si è ipotizzabile se la superficie vetrata è un ottavo della superficie impianta questo è quello di legge poi si è ipotizzato un nucleo familiare di quattro persone per ogni appartamento si è ipotizzato il 50% degli alloggi occupati in modo continuo e l'altro 50% in modo variabile e anche in questo caso siccome anche nel caso della villetta la temperatura di set point di 20 gradi interno e quella estiva come sappiamo è di 26 gradi questo per la climatizzazione quindi la villetta è il centro direzionale questo è ecco qui ricordo in questo caso scusate nel centro direzionale su tre piani da 1200 metri quadri complessivi stesso ragionamento però vedete anche si è impostato il discorso con i carichi di lavoro dei computer del numero di persone presenti degli orari in cui erano presenti certo questo software mi consente di fare questo tipo di valutazione in questo caso vedete nel caso del vice direzionale molto importante è prevista anche la soluzione con la vernice in copertura campanone industriale anche qui 2500 metri quadri altezza 6 metri 50 orario di lavoro secondo i carichi poi anche termici che aveva e anche diciamo la copertura trattata o meno mi fermo solo questa è la tabella riassuntivo sintetica se vedete questo è pre 311 cioè queste sono le condizioni in cui un edificio più o meno vetusto comunque non risponde alle leggi del 311 questi corrispondono in basso alle leggi del 311 mi soffermo su un caso uffici per esempio vedete il risparmio energetico che noi abbiamo in zona di Venezia è il 31% del complessivo in termini di kilowattora metro quadro annuo e mi dà come risparmio e con valore reale di 16,2 kilowattora metro quadro hanno di risparmio quindi se voi avete un appartamento di 100 metri moltiplicate 100 per il kilowattora avrete il consumo e il costo 0,35 costo orario medio del kilowattora poi naturalmente per diverse zone può essere diverso però insomma questo per farvi capire che a Venezia abbiamo 16,2 in meno 19,3 in meno ce l'ho a Roma e a Palermo c'ho il 23,7 naturalmente essendoci carichi termici diciamo molto elevati a Palermo è chiaro che in percentuale questo va a carare mentre con le zone più fredde vedete va a crescere in termini percentuali ma non in valore assoluto perché in valore assoluto vedete che è più alto evidentemente nel caso del capannone anche qui vedete che addirittura a Palermo abbiamo ottenuto il 68% di risparmio in termini di kilowattore naturalmente nel caso del capannone si è anche considerato l'ipotesi delle temperature che vedete qua nel senso che c'è anche un filmatino adesso veloce che vi faccio vedere la temperatura interna col capannone vedete nel caso di Palermo 30 gradi con roof coat cioè con applicazione anche sulla copertura della vernice 33,4 quindi ci sono 3,4 che poi in realtà erano 4 gradi di differenza come temperatura interna diciamo senza il trattamento in copertura cosa significa questo? che se io pongo 28 gradi come elemento è chiaro sono un po' fuori però ho una temperatura accettabile senza cioè l'uso di impianti di condizionamento in questo caso vi faccio vedere rapidamente proprio nel caso in realtà questi qua sono stati costruiti un po' per tutte le tipologie che avete visto qui vedete sulla sinistra il capannone trattato e quello non trattato sia in copertura che in parete il delta T del tetto sono 26 gradi lo vedete anche dai colori cioè qui avete la scala di temperature questo è un giorno esattamente il più caldo che naturalmente c'era nell'anno tipo 23 di luglio nelle 24 ore qui vedete la scala di temperature e vedete i colori questo invece nella seconda parte che vi sto facendo vedere sono i 3,3 gradi interni misurati ovviamente tra questo campanone trattato e questo non trattato spero che sia chiaro diciamo che il colore più va verso il rosso è più caldo e più va verso il blu ovviamente è più freddo comunque quello che è interessante è capire sostanzialmente da un lato questi 26 gradi che io ho in copertura di differenza quindi da 70 gradi siamo stati siamo arrivati a 44 insomma tanto per dire e la temperatura interna come vi dicevo prima che quando prima parlavo di rapporto posti benefici questo può essere un esempio proprio su una palazzina direzionale a Roma poi alcuni di questi molti di questi casi poi sono stati applicati nella nella realtà cosa significa che il termotecnico mi venga a realizzare un rapporto costi benefici da giustificare l'impiego di una certa tecnologia come questa del curvo beh qui lo vedete abbiamo considerato la palazzina direzionale di tre piani quella che avevamo visto prima di 1200 metri quadri a Roma con trattamento della vernice bianca su guaina bituminosa in copertura e naturalmente anche la completezza di informazioni in facciata costo di intervento a prezzi di capitolato qui vedete anche i costi sono 640 metri quadri di pareti 400 metri quadri di copertura il costo 24,5 qui parliamo di prezzi d'appalto sono 15.680 euro per le facciate 34 per 400 13.6 per la copertura totale complessivo escludendo i ponteggi in questo caso sono 29.000 euro quanti i risparmi io ho considerato in questo caso l'altro qui c'è un errore 0,35 costo orario medio a Roma del kilowattore se io moltiplico i 19.3 che vi ricordo sono quelli naturalmente risparmiati eccolo qua quello indicato in giallo per capirci questa struttura per i 1200 metri quadri di calpestio per 0,35 ho 8.106 euro all'anno di risparmiato quindi ho un ROI un return on investment di 3,6 anni cioè in 3,6 anni io recupero il capitale investito in termini di benefici diretti in bolletta evidentemente ed escluso escludo i benefici fiscali che naturalmente voi sapete possono andare adesso sulle percentuali ci sono dei grandi cambiamenti ma insomma possono arrivare anche al 70 75% quindi vedete qual è questa è un esempio naturalmente qui stiamo parlando solo di efficienza energetica in termini economici però tutto il resto poi sono importanti durabilità della struttura escursioni termiche minore manutenzione riduzione degli impianti di raffrescamento non c'è solo il fatto dell'esercizio ma c'è anche l'impiantista la parte impiantistica se si può naturalmente fare minore emissione di CO2 quindi in sostanza possiamo dire che l'impiego in generale come funziona funziona che andando verso le aree più calde ma questo è anche logico intuitivo si incrementa i vantaggi anche ben sopra il 30% come abbiamo visto si incrementano da piccoli a grandi edifici cioè più grande l'edificio perché? perché la componente copertura è importante molto importante ai fini del risparmio energetico evidentemente e anche quando io ho carico termico interno generato sia dal punto di vista del numero delle persone interne sia dal punto di vista cinema perché non c'è solo l'industria ci può essere un cinema ci sono ambienti anche molto affollati e vi dicendo più aumento il carico interno più i benefici aumentano quindi oltre a tutti gli altri aspetti di sostenibilità eccetera poi per questa parte vi faccio vedere una cosa diversa non siamo veneziani ma siamo vicini a Venezia qui i vaporetti di Venezia però li conoscete tutti va bene in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo ci hanno chiesto la CTV di fare una prova sulle cabine sostanzialmente di comando delle imbarcazioni dei vaporetti perché d'estate il carico termico interno e se voi ci siete stati lo sapete è piuttosto rilevante quindi è stato fatto adesso ve la dico in breve l'applicazione come lo vedete sulla parte destra del materiale bianco in copertura delle cabine dopodiché sono stati con dei flussometri sono stati registrati evidentemente le temperature e qui vedete gli effetti superfici naturalmente è stato preso un giorno tipo anche in questo caso due vaporetti uguali eccetera 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 quindi temperatura esterna sul tetto della cabina nel caso non trattato è vero che era leggermente non era bianco era un grigio chiaro 51 gradi 28 gradi nel caso invece del trattamento quindi ritorniamo anche con i parametri che avevamo visto anche prima temperatura media dell'aria esterna in questo giorno di agosto 23 gradi temperatura interna dell'abitacolo questo è molto importante 24 gradi contro i 32,6 e lo vedete proprio nel rilevamento nelle due case quindi abbiamo 8,5 gradi in meno questo lo faccio vedere non è che noi lavoriamo nel settore automotive però certamente questa tecnologia è a ampio spettro diciamo così rapidamente vengo su alcune applicazioni quindi come materiali noi abbiamo l'exterio la famiglia del GP San Zenit per facciate esterne l'UFCOAT per tetti abbiamo introdotto recentemente l'S che è un po' più rinforzato su guaine guaine bituminose sempre per le coperture e poi c'è l'interior nanotec interior per la parte diciamo interna il binder va bene lo risparmio vi risparmio anche i primer perché indubbiamente sono importanti perché ogni primer ci sono di tre tipologie per acciai per acciai zincati poliuretani e per superfici polose tipicamente intorno ci vanno applicati prima del materiale non ritorno sulle caratteristiche che vi ho già sostanzialmente anche gli effetti che vedete quando io applico sull'exterio cioè su una facciata che è disponibile ripeto anche con colori pastello tendenzialmente sul chiaro vedete una stessa una vernice confrontata l'exterio dopo tre mesi e una vernice per esterni di buona qualità vedete la formazione di microcricche in questo caso non si forma nulla questo perché perché il materiale ha una sua anche oltre che adesione buona elasticità effetto beh questo è ben noto l'effetto sui coefficienti di isolamento termico di una parete quando io aumento la quantità d'acqua pensate che il 4% vuol dire il 40-50% di riduzione degli effetti di isolamento quindi è molto importante avere anche un buon materiale che tiene lontana l'umidità l'acqua pur essendo traspirante ma l'acqua la deve tenere un po' sulla posa in opera è come una vernice naturalmente va applicata all'urlo a spruzzo e se ci sono delle fessurazioni superiori ai 3 mm queste vanno ponteggiate con del tessutino che abbiamo e con lo stesso materiale ecco una cosa importante per tutte queste vernici che naturalmente le superfici siano asciutte non si può impiegare questi materiali su superfici umide non perfettamente asciutte oppure che abbiano addirittura negli scantinati per esempio ci possa essere dell'azione di spinta di controspinta magari di falda o similare qui vedete degli esempi di palazzine all'esterno proprio di facciate vedete i colori tendenzialmente chiari bene l'interior allora mentre su come avete capito sul condizionamento estivo noi riusciamo a calcolare i vantaggi economici che abbiamo attraverso un'applicazione in piego di questa tecnologia è chiaro che invece la parte all'interno che tipicamente agisce per quanto riguarda il periodo invernale pur avendo un lambda il materiale abbastanza buono 0,05 però il lambda che ha è comunque rapportato a uno spessore di 300 micron quindi voi capite stiamo parlando di un aumento basso quindi cioè di una conduttività scusate che non è una conduttività evidentemente che porta a un grande beneficio dal punto di vista conduttivo quindi il ragionamento che faccio è che queste pitture non vanno considerate e qui è un punto chiave c'è stata molta confusione scusate ma negli ultimi anni anche sul mercato poi ci sono venuti anche dei chiarimenti da alcune associazioni però è evidente che queste pitture sono formidabili nel periodo estivo per climatizzazione però nel periodo invece d'inverno non vanno calcolate in questi termini sono dei migliorativi che io posso fare per migliorare l'effetto ponte termico parete fredda e così via quindi sono dati accertanti tuttavia va anche detto con estrema chiarezza che non ci sono degli strumenti di calcolo perché sarebbero particolarmente complessi insomma in questo senso qui vedete anche l'omogeneizzazione che tipicamente tra pavimento ci possono essere 5 o 6 gradi in questo caso vedete riduciamo un grado un grado e mezzo insomma mettendo all'interno evidentemente questa pittura interior si chiama che naturalmente rende l'ambiente più salubre meno umidità condensa muffa allergeni e così via e qui vedete una termocamera dopo che è stato applicato questa è senza applicazione all'interno della stanza e questa è con applicazione della pittura vedete che c'è un netto miglioramento e la sensazione diciamo termica ce l'hanno detto persone che hanno impiegato in camera da letto esposte a nord per esempio la sensazione è certamente diversa consumo come vedete 0,4 litri al metro quadro l'applicazione è simile questa mi fa pensare a una cosa quanto importante adesso vediamolo anche dal punto di vista esterno su l'agroindustriale stale ambienti diciamo rurali eccetera eccetera l'importanza di questa di questa vermice anche per la stessa migliore qualità della vita degli animali e se pensiamo a una mucca a una produzione lattiera o galline o a produzione ovaiole eccetera eccetera quanto è importante la sensazione ambientale se voi siete mai stati all'interno ve lo dico sono temperature umidità spaventose io l'ho fatto di persona più di qualche volta e vi garantisco che certamente come tutti gli esseri umani anche gli animali hanno certamente piacere di stare in un ambiente che sia più salubre meno caldo e così via e rendono molto meglio alla fabbrica soprattutto vedete l'applicazione invece all'interno di un capannone così via arriviamo poi alla roof coat cioè quella per coperture risparmiati fatemi risparmiare diciamo ancora le caratteristiche di un micro che vi è già ben illustrato vedete il delta di temperatura tra questa che è la superficie non trattata e questa questo è un intermedio con un'altra soluzione e tra questa che è la temperatura del Sanzena vedete che il delta di temperatura aumenta con l'aumentare della temperatura a 70 gradi 75 gradi di un tetto per esempio in guaina nera faccio un esempio abbiamo un salto termico che è quasi di 25 gradi che è elevatissimo c'è il nabo degli impianti fotovoltaici non abbiamo dei dati certi anche se si potrebbero essere misurati però abbiamo tutta una serie di elementi scusa abbiamo tutta una serie di elementi perché vedete che una superficie è fotovoltaica voi sapete che le cellule le cellule fotovoltaiche soprattutto i moduli in silicio cristallino hanno la caratteristica di lavorare attorno ai 25 gradi a livello ottimale se le temperature sono più alti perdono di efficienza infatti vedete che con un albedo di 0,2 abbiamo un incremento della produzione quindi della copertura abbiamo un incremento dell'1% con albedo invece cioè applicando significa una pittura currufo come può essere la nostra di Pisan Zenit vedete che avete una generazione di energia incrementale del 5% sarebbe interessante adesso può essere che abbiamo anche qualche sperimentazione in questa direzione diventa automatico questo ragionamento partendo da quali sono i fattori di efficienza di un impianto fotovoltaico non dimentichiamo poi che molte volte i piedini degli impianti fotovoltaici perforano le guaine perdono sono praticamente fanno passare acqua di filtrazione e ridicendo e questo materiale può anche ripristinare perché è anche impermeabile per un certo spessore può anche ripristinare molto bene l'impermeabilità di una di una copertura diciamo trattata con un sistema di impermeabilizzazione tradizionale altro effetto l'abbassamento della temperatura migliore l'abbiamo già detto ovviamente il comportamento le dilattazioni dell'acciaio rispetto evidentemente alla struttura sottostante che è in calcestruzzo quello che è insomma la poso in opera ecco qui vedete allora questo lo dico anche per l'incapsulamento dell'amianto perché il prodotto è certificato secondo la normativa del 99 ministeriale nelle classi a bcd e vedete che con 0,6 litri a metro quadro io ottengo sia incapsulamento dell'amianto che gli effetti termici se vado a aumentare la quantità ottengo anche l'incremento della cioè l'effetto anche impermeabilizzazione in questo caso dell'ecupuntura ecco quello che citavo prima sul fatto per esempio di un amianto di un amianto cemento di una lamiera in amianto cemento vedete l'incapsulamento dell'amianto viene attraverso un materiale applicato per 100.000 vedete alcune applicazioni in copertura anche su tubazioni evidentemente perché pensiamo che le tubazioni a cielo aperto in particolare che conducono magari devono stare a certe temperature per petrolio e così via il trattamento esterno impedisce il surriscaldamento interno del liquido del fluido che scorre ecco applicazione sopra wine ecco qui vi cito sul discorso siamo quasi alla fine a rufcotesse che cos'è è semplicemente un materiale del tutto simile solo che è incrementato nello spessore perché lo portiamo a 1,7 mm all'incirca e contiene T in mezzo il perché di questo perché quando io ho delle superfici dove la pedonabilità è un po' più rilevante è necessario lavorare abbiamo visto con un minimo di accorgimenti anche dal punto di vista dello spessore complessivo che è necessario impiegare complessivo anche di un tessuto che vi garantisca diciamo anche un comportamento proprio alla pedonabilità un miglior comportamento alla pedonabilità quindi io direi che per avviarmi la conclusione queste soluzioni avranno sempre più futuro perché evidentemente il mondo va in quella direzione per motivi ovviamente di risparmio di ecosostenibilità di riduzione degli NOx degli ossi di azoto della linea carbonica e pertanto la casa passiva non si otterrà certamente se non se ne involucro non verrà trattato con sistemi diciamo di questa natura ciao a tutti Grazie a tutti.